Con la crescita dei contagi e del numero dei ricoveri in terapia intensiva, diverse regioni italiane rischiano di dover cambiare fascia a partire dal lunedì prossimo. Ad affiancare in zona gialla Friuli, Venezia, Giulia e la provincia di Bolzano, quasi certamente la Calabria. Sotto stretta osservazione nelle prossime settimane anche l'evoluzione in Veneto, Trentino, Liguria, Lombardia, Lazio e Marche. Secondo l'Agenzia Europea del Farmaco, la somministrazione del booster potrebbe essere anticipata dopo tre mesi anziché cinque in modo sicuro e affidabile. Intanto i dirigenti scolastici chiedono di estendere l'apertura della terza dose alla fascia d'età 12-18 anni, mentre prosegue a ritmo sostenuto la campagna vaccinale anche per le prime dosi. Giornata di protesta per il mondo della scuola, manifestazioni in varie città con al centro temi economici e contrattuali. Le agitazioni anticipano di una settimana lo sciopero generale confermato ieri da CGL Will per il 16 dicembre contro la manovra. Una decisione criticata anche dal presidente di Confindustria Bonomi. Nella diatriba tra sindacati e governo, chi viene penalizzato è il mondo del lavoro e delle imprese, dice. Dopo l'invito di Enrico Letta a trovare il più largo consenso possibile, comprendente anche Fratelli d'Italia, in vista dell'elezione del capo dello Stato, dal centro-destra Matteo Salvini prende subito le distanze. Del Quirinale lascio che ne parli Letta, dice. Noi lavoriamo ad una larga maggioranza, ma senza parlarne con i giornalisti. Ora pensiamo alla manovra. Torna a salire la tensione tra Washington e Mosca in seguito al sostegno manifestato ufficialmente da Joe Biden all'Ucraina, anche per il suo ingresso nella Nato. Gli Stati Uniti e i loro alleati e partner sono impegnati sul principio di nessuna decisione o discussione sull'Ucraina senza l'Ucraina. Le parole del presidente americano. Non escludiamo una crisi con gli Stati Uniti simile a quella missilistica cubana del 62, la replica di Mosca. E come fu per Angela Merkel nel 2005, sarà Parigi la destinazione del primo viaggio internazionale del neocancelliere tedesco Scholz. In testa all'agenda, nell'incontro all'Eliseo con il presidente Macron, l'impegno per trovare una strategia comune sull'Europa, che Berlino vede proiettata verso uno Stato federale. Ma il capo dell'Eliseo frena, sottolineando l'importanza degli Stati Nazioni. L'Atalanta esce dalla Champions League dopo la sconfitta interna di ieri sera con il Villareal. I bergamaschi ripartiranno a febbraio in Europa League insieme a Napoli e Lazio negli spareggi per approdare agli ottavi di finale. Questa sera al Via, la diciassettesima giornata di campionato, con il derby di Genova tra due squadre in crisi di risultati e non solo. Buongiorno e benvenuti dal telegiornale della Sette. Cominciamo subito dal monitoraggio settimanale della cabina di regia sul Covid con parametri. Purtroppo tutti in peggioramento aumentano i contagi, sono sempre troppe le vittime e c'è maggiore tensione sugli ospedali. In alcuni casi le terapie intensive non sono più in grado di accogliere nuovi pazienti. Dunque sono sette anche le regioni a maggior rischio con in testa la provincia autonoma di Bolzano. Continua a salire la curva dei contagi. In una settimana il tasso di incidenza nazionale è passato da 155 agli attuali 176 positivi ogni 100.000 abitanti. L'indice di trasmissibilità medio è invece leggermente diminuito dopo settimane di leggero ma costante aumento ed è passato dall'ultimo 1,20 a 1,18 dato che resta comunque più alto del parametro che punta a ridurre i contagi sotto l'1. È il quadro generale fatto dalla cabina di regia e dall'Istituto Superiore di Sanità. In crescita l'occupazione media dei posti letto in ospedale, i pazienti delle terapie intensive sfiorano ormai la percentuale dell'8,5 ed il 10,6 nei reparti ordinari. Ma questa è la media nazionale. In alcuni territori la situazione è peggiore con sette regioni e province autonome che sforano la soglia di allerta del 10% nelle intensive. Svettano Bolzano e Trento rispettivamente al 18 e al 16,7%. Ci sono poi Friuli, Venezia, Giulia e Marche con oltre il 14%. Con uno scarto di due punti seguono Veneto e Liguria. L'Emilia Romagna è al limite con il 10%. La Calabria invece rischia di raggiungere Friuli e Bolzano in zona gialla avendo superato la soglia di rischio delle terapie intensive con un valore che sfiora il 12% e quella dei reparti con quasi il 17% per l'occupazione dei posti letto. A superare il limite del 15% nelle aree mediche ci sono anche la provincia autonoma di Bolzano, il Friuli, Venezia, Giulia e la Valle d'Aosta. La nuova ondata pandemica ha come conseguenza diretta il sovraffollamento dei pronto soccorso con attese anche di 36 ore. La situazione non è ancora drammatica ma rischia di diventarlo presto, avverte l'Associazione dei Medici di Emergenza, Simeu. Ma quello che è drammatico, sottolineano gli specialisti, è l'impossibilità di ricoverare tanti pazienti non Covid. In generale, secondo l'ente di sorveglianza europeo, tutta l'Italia è considerata a rischio Covid moderato, tranne il Molise, unico a rischio basso anche per l'incidenza media dei contagi, dove tutto il paese supera il limite dei 50 casi ogni 100.000 abitanti. Bolzano è ad oltre 556, il massimo. Anche Friuli e Veneto oltrepassano abbondantemente la soglia, seguiti dalla Val d'Aosta che segna 266 contagi. Una situazione dunque preoccupante, anche se va detto che grazie all'alto tasso di vaccinazioni l'Italia si trova in una situazione lontana da quanto avvenuto l'anno scorso durante la prima ondata di Covid. Proprio per questo, non fanno che ripetere i medici, bisogna accelerare con le vaccinazioni le prime dosi in primis, ma anche il cosiddetto booster, la terza dose, il richiamo, perché attendere sarebbe come correre, un inutile rischio. 100.600.000 dosi somministrate in poco meno di un anno. La campagna vaccinale corre in Italia. A 47 milioni di persone è già stata iniettata la prima dose, a 45 milioni la seconda, ovvero l'85% degli over 12 anni. 2 milioni di fiale Pfizer sono in arrivo. Ci sono dosi sufficienti a vaccinare 25 milioni di italiani entro la fine di dicembre, al ritmo di un milione di somministrazioni al giorno, rassicura il commissario straordinario per l'emergenza, Figliuolo. EMA invita a correre con le vaccinazioni e a provvedere alla somministrazione della terza dose. La somministrazione può essere ripetuta già a tre mesi dall'ultima vaccinazione, in modo sicuro ed efficace, dicono i dati dell'Agenzia Europea del Farmaco. Strada per ora in Europa seguita solo dalla Grecia. In futuro, chissà, magari, diciamo, dovremo fare dei richiami e quant'altro. Sappiamo che puoi fare la prima, la seconda, quindi la prima a tempo zero, a 21 giorni, e la terza la puoi fare a tre mesi. Al momento noi non stiamo facendo questo ed è prenotabile dal quinto mese. Promossa dall'Agenzia Europea del Farmaco, anche la somministrazione eterologa, che ha avuto le prime dosi con farmaci vettoriali, può avere la terza anche con quelli a mRNA, ottenendo alti livelli anticorpali. Una situazione in cui potrebbero trovarsi forze dell'ordine e il personale scolastico, per cui le prime dosi erano state di AstraZeneca. Per loro l'obbligo di terza dose scatterà il 15 dicembre, una circolare del Ministero dell'Istruzione è stata inviata ai dirigenti scolastici regionali. Dal prossimo 15 dicembre, per svolgere l'attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde rafforzata, ovvero vaccinazione o guarigione, si legge nel documento. Un obbligo che riguarderà dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo. I dirigenti scolastici chiedono di estendere l'apertura della terza dose alla fascia d'età 12-18 anni. Lo dicono tutti gli scienziati, dice l'Associazione Nazionale Presidi. La terza dose dovrebbe essere aperta per proteggere al meglio la popolazione scolastica. La diffusione del virus è maggiore, continuano i dirigenti, alle elementari e nei primi due anni di scuole medie, dove gli studenti non hanno alcuna copertura vaccinale. Ecco, il Super Green Pass evocato nel nostro servizio ha avuto degli effetti immediati, infatti appunto continua la corsa, le prime dosi di vaccino. Negli ultimi sette giorni, pensate, sono stati 244.302 gli italiani che hanno fatto la prima somministrazione, circa 10.000 in più rispetto alla settimana scorsa e oltre 100.000 in più delle due precedenti settimane. Ora parliamo di scuola, perché ha un po' il sapore di una prova generale, lo sciopero odierno nel settore, una prova generale di quello sciopero, indetto da CGL e Will per il prossimo 16 dicembre. Gli insegnanti e tutto il personale scolastico protestano contro la legge di bilancio che a loro vedere non dà sufficienti mezzi al settore che è così da tanto tempo stato lasciato andare. Dunque stanno manifestando in queste ore sia a Milano che a Roma. È il mondo della scuola il primo comparto a scioperare tutti i sindacati in piazza, tranne la CISL, prova generale della mobilitazione sindacale del 16 dicembre contro la manovra del governo Draghi, giudicata insufficiente anche sul fronte del fisco, pensioni, politiche industriali e contrasto alla precarietà del lavoro. Scelgono la strada della protesta tante sigle sindacali come CGL, Will, Gilda, Cobas, Snals accusano l'esecutivo di aver ridimensionato gli investimenti sull'istruzione, se non peggio, di aver completamente dimenticato l'intero settore. Sul tavolo, dicono, ci sono solo tagli, retribuzioni basse, svalutato ancora una volta l'impegno di docenti e personale. Per la CGL i soldi stanziati per l'istruzione sono troppo pochi, con il contratto scaduto da tre anni non si può parlare di un aumento mensile lordo di 87 euro al mese, chiarisce Anna Maria Santoro, CGL Scuola, più 12 euro lordi ai docenti. Almeno, osserva Pino Salerno, sempre CGL Scuola, in passato si davano i premi alle scuole, sui progetti. Ci sono in ballo poi i contratti Covid, che sono in scadenza a fine anno. Per ora è certo il rinnovo per i docenti, si cerca ancora la copertura per confermare anche i collaboratori e il personale ATA, forze determinanti nel contrasto alla pandemia. Si era detto più volte di eliminare le aule pollaio, ma stanziamenti non sono stati fatti. Come si riduce il numero dei ragazzi per classe a costo zero? Si chiedono i sindacati in rivolta che ribadiscono e incalzano la CISL. Non c'è una ragione per non scioperare. La scuola ha bisogno di riconoscimento. È un investimento sul futuro, ricordano, non una spesa pubblica da contenere. Con l'ultimo intervento del nostro governo, sono ormai quasi 4 miliardi le somme stanziate per cercare di mitigare gli effetti potenzialmente devastanti sull'intera economia nazionale del caro bollette, luce e gas. Un rincaro che va ad intaccare lì dove i redditi sono più bassi. Dunque una mossa per cercare di venire incontro anche a quello che sono le richieste dei sindacati. Il governo interviene per la terza volta dopo i provvedimenti di luglio e ottobre per frenare i fortissimi rincari delle bollette di gas e luce. Con un decreto infatti stanzi altri 1,8 miliardi di euro che sommati ai 2 miliardi già previsti portano il fondo a disposizione dei tagli del costo dell'energia a 3,8 miliardi. Il forte impegno su questo fronte trova fondamento nelle previsioni allarmanti che indicano in mancanza di interventi a causa della lievitazione del costo delle materie prime una possibile crescita del 50% dei prezzi del gas e del 17-25% di quelli per la corrente elettrica. Il ministro per gli affari regionali la forzista Gelmini commenta a fronte di questa importante misura del governo per calmierare l'aumento delle bollette è ancora più difficile comprendere le ragioni dello sciopero generale e Antonio Tajani chiede espressamente la revoca dello sciopero è un errore, dice. Mentre il ministro Demmo Orlando si augura che il dialogo con i sindacati possa proseguire è l'unica strada nell'interesse del paese, spiega. La protesta indetta è quindi incomprensibile per governo e maggioranza ma CGL e Guil difendono la scelta. Intanto un sciopero definito politico in cui tutti i partiti e tutta la politica è contro mi sa che è molto poco politico è molto sul merito e sulla realtà della vita delle persone. Resta però la richiesta della commissione di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali di riprogrammare la protesta in un'altra data. L'autorità infatti pone la questione della difesa dei diritti degli utenti. Lo sciopero del 16 non rispetta i tempi consentiti. La normativa in vigore infatti come ammette anche la CGL non consente scioperi nei servizi essenziali nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 6 gennaio. Ma per CGL e Guil l'astenzione dal lavoro ci sarà comunque e spiegano sarà effettuata nel pieno rispetto di tutte le norme. Una forte condanna arriva dal capo degli industriali Carlo Bonomi che dice credo che lo sciopero generale sia un problema per l'Italia in una diatriba tra una parte del sindacato e il governo che viene penalizzato il mondo del lavoro e delle imprese. E da l'Istat arriva una notizia negativa sulla produzione industriale stimata ad ottobre in calo dello 0,6% mentre gli analisti si aspettavano un aumento. L'indice del trimestre agosto-ottobre è comunque in crescita dello 0,6% rispetto al periodo precedente sale del 2% su base annua. In tutto questo tra circa un mese il Parlamento dovrà eleggere il prossimo Presidente della Repubblica per questo le forze parlamentari i partiti cercano una intesa dietro ad un nome che possa esprimere un largo consenso. Letta tende la mano alla Meloni per allargare il campo che sceglierà il prossimo capo dello Stato ma Salvini prende le distanze non parlo di Quirinale dice il leader della Lega lascio che Letta si diverta a parlarne eppure anche lui ammette che l'obiettivo è una maggioranza larga per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica ma di certo per Salvini bisogna partire dai confini del centro-destra ad allargare fin dove lo richiederanno i numeri non è un mistero il dialogo apertissimo con il leader di Tagliaviva Renzi deciso a sua volta ad avere un ruolo centrale nella partita rendendo i suoi voti decisivi l'ipotesi più gettonata in questa chiave sarebbe Pier Ferdinando Casini alla quarta votazione ma Berlusconi non molla e guarda con interesse proprio a questo schema considerandolo un possibile passo di avvicinamento per lui al Quirinale i numeri per la sua elezione ci sono assicura Tajani ma gli alleati di centro-destra sono più cauti credo che la sua candidatura sia molto in salita diceva ieri Lameloni e Salvini di fronte ai suoi parlamentari ha evitato nomi limitandosi a parlare dello schema da mettere in campo che deve vedere il centro-destra compatto geometria che ha spinto Letta a guardare in direzione Meloni necessario trovare interlocutori visto che il campo largo del centro-sinistra non sembra decollare punto di caduta potrebbe essere proprio la candidatura di Mario Draghi anche se sul dopo le visioni dei due divergono per la Meloni il trasloco al Quirinale porterebbe dritto al vuoto per Letta necessario invece evitare una crisi in piena pandemia con i fondi europei in arrivo grandi manovre insomma mentre l'ora X si avvicina il mandato di Mattarella scade il 3 febbraio un mese prima il presidente della Camera Roberto Fico fisserà la convocazione delle Camere in seduta comune la prima data utile sarebbe il 18 gennaio ma secondo i rumors potrebbe essere fissata dieci giorni dopo il 28 riducendo i tempi per le decisioni necessario insomma arrivare in aula con uno schema già in tasca Sergio Mattarella infatti nonostante le pressioni per un bis resta intenzionato all'addio confermata infatti la visita di commiato presso la Santa Sede del 16 dicembre ora torniamo a parlare di lavoro perché resta probabilmente l'anello più traballante del nostro paese a cui si aggancia tutto il resto dell'economia perché se non c'è lavoro non si spende se non si spende non c'è crescita economica difficile che possano farlo i tantissimi disoccupati oppure quelle persone che un posto ce l'hanno ma rischiano di perderlo sono tante le vertenze di lavoro in Italia una su tutte forse quella dell'embraco dove quasi 400 persone ormai non hanno più speranza di poter mantenere lo stipendio la storia dell'embraco è una vergogna senza fine è la conclusione amara del sindacato che ha gestito la vicenda arrivata ora a un punto di non ritorno perché sul futuro dei 377 lavoratori dell'azienda di Riva di Chieri provincia di Torino che produceva compressori per frigoriferi ieri è stata scritta la parola fine e salvo miracoli il prossimo 23 gennaio saranno tutti disoccupati il tribunale fallimentare di Torino ha riaperto una nuova procedura di licenziamento che scade il 22 la battaglia dell'embraco è durata quasi 4 anni i lavoratori hanno visto ministri e i loro cancelli promettere un futuro di reindustrializzazione che non c'è mai stato l'ultimo progetto quello di Italcomp che prevedeva la fusione con un'azienda di Belluno insieme con sostegno pubblico è stato bocciato dall'attuale ministro dello sviluppo economico Giorgetti a luglio col governo Draghi la vicenda l'embraco è scomparsa dal Mise denunciano i sindacati il tavolo di crisi non è mai stato convocato da quando il governo Draghi si è insediato nessuna soluzione è stata trovata per questo il 15 dicembre saremo nuovamente a Roma a manifestare sotto il palazzo dello ministero dello sviluppo economico a fine novembre per i lavoratori dell'exembraco era arrivata l'ennesima beffa la curatela fallimentare ha stabilito che i 9 milioni rimanenti del pacchetto destinato da Whirlpool al rilancio dell'occupazione sarebbero stati impiegati per pagare i debiti ai creditori risultato a ogni lavoratore sarebbero toccati 7 mila euro lordi a testa la crisi del sistema industriale italiano attraversa la storia dell'azienda di Riva di Chieri che la prossima settimana tenterà l'ultimo grido di protesta sempre a Roma lo stesso giorno ci saranno i lavoratori di Eri itali davanti al ministero del lavoro dove si svolgerà il tavolo interministeriale per l'avvertenza sul futuro dei 1.322 dipendenti della compagnia Sardo-Catariota in liquidazione assistenti di volo comandanti personali di terre e piloti della compagnia con sede in Lombardia e Sardegna sono sempre più vicini al licenziamento perché ieri la società ha dichiarato di non voler né tornare sui propri passi né prorogare la cassa integrazione il 15 dicembre il governo dovrà dire se ci sono margini per una soluzione oppure no un'indagine dei carabinieri e della procura di Foggia scuote in queste ore il Viminale infatti il capodipartimento per l'immigrazione del ministero dell'interno Michele Di Bari si è dimesso dopo la notizia che insieme ad altre 15 persone risulta indagata sua moglie l'inchiesta ha portato anche all'arresto di 5 persone due delle quali in carcere la ministra Luciana Lamorgese pochi minuti fa ha accettato le dimissioni di questo alto funzionario ora parliamo di un argomento che in queste ore sta scatenando un putiferio per il momento si tratta solamente di una proposta che tra l'altro difficilmente verrà adottata vista l'immediata levata di scudi ma anche il complesso e lungo ITER in ogni caso in Italia che è un paese di proprietari l'idea che ci possano essere delle limitazioni sulla vendita o sull'affitto degli immobili che non sono a norma a livello energetico fa molto parlare Il prossimo martedì la Commissione europea presenterà un nuovo pacchetto di misure per il risparmio energetico e la riduzione di emissioni che sta facendo discutere la proposta perché di proposta si tratta che poi passerà al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio degli Stati prevede che dal 2030 in poi prima di poter vendere un immobile il proprietario potrebbe essere chiamato a interventi di riqualificazione energetica proporzionati allo stato di partenza dell'abitazione e alle classi di efficienza energetica che può raggiungere La proposta si inquadra nella filosofia Green Deal della Commissione von der Leyen poiché gli edifici sono responsabili del 40% del consumo energetico totale e del 36% delle emissioni di gas a serra legate all'energia nell'Unione europea Va subito precisato che i costi dell'intervento di riqualificazione dovrebbero entrare nel contratto di vendita ma soprattutto cosa importante per un paese di piccoli borghi e case antiche come il nostro dal campo di applicazione della nuova norma saranno esclusi gli edifici storici contraria all'iniziativa alla confedilizia secondo la quale la misura lederebbe i diritti dei proprietari mentre l'Unione Nazionale Consumatori si dice contraria a qualunque norma che impedisca la libera vendita di una casa solo perché ha una bassa classe energetica Di follia parla Giorgia Meloni mentre Antonio Tajani di Forza Italia si limita a dire che la direttiva va cambiata i 5 Stelle preferiscono invece rimarcare come gli interventi di efficientamento energetico si possono attuare e promuovere con i vari super bonus che va ricordato danno un sacco di lavoro e creano impieghi qualificati dei quali ce ne sarà sempre più bisogno man mano che si completa la riconversione energetica delle nostre economie nella direttiva ci saranno anche provvedimenti sul metano sulla decarbonizzazione del settore del gas e per promuovere tecnologie e pratiche per aumentare l'assorbimento della CO2 da parte dei suoli agricoli e dell'industria ci sono importanti novità da Londra sul destino di Julian Assange il 50enne australiano fondatore di Wikileaks che Washington vuole processare per la diffusione dei noti documenti segreti su presunti crimini di guerra commessi in Afghanistan e in Iraq il caso è stato rinviato al tribunale di grado inferiore per essere ascoltato nuovamente l'alta corte di Londra ha infatti ribaltato la sentenza di primo grado che negava la sua estradizione dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti è stato così accolto il ricorso dei legali americani che si opponevano al no alla consegna di Assange sulla base di un pericolo di suicidio legato al prevedibile trattamento giudiziario e carcerario negli Stati Uniti appunto americani che sono in prima linea anche sulla questione ucraina nei giorni scorsi il faccia a faccia a distanza tra Joe Biden e Vladimir Putin non ha sortito gli effetti desiderati non ha allentato la tensione anzi sembra di essere di fronte ad una vera e propria escalation con Mosca che continua ad aumentare il numero delle truppe al confine con l'Ucraina e considera una linea rossa invalicabile il possibile ed evocato ingresso di Kiev nell'alleanza atlantica nella NATO impegno in favore della sovranità dell'Ucraina sostegno alla possibilità che sia il popolo ucraino e nessun altro a decidere del proprio futuro quindi anche di una eventuale adesione al patto atlantico sono questi secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky i messaggi che Joe Biden gli ha comunicato durante una telefonata di un'ora e mezzo nella quale i due leader hanno discusso i risultati del vertice virtuale tra lo stesso Biden e Vladimir Putin di martedì scorso e Biden poi questi concetti li ha ribaditi indirizzandosi ai nove paesi che si stendono sul fianco orientale della NATO i cosiddetti Bucarest 9 nonostante lo sforzo di mantenere in vita il canale diplomatico la crisi ucraina continua a suggerire la possibilità di sviluppi drammatici Vladimir Putin ieri parlando della situazione del Donbass la regione orientale russofona dell'Ucraina ha parlato addirittura di un tentativo di genocidio da parte di Kiev un modo certamente per giustificare la presenza delle truppe che da mesi secondo l'intelligence occidentale e le denunce ucraine sta disponendo a confine tra i due paesi secondo le ultime valutazioni Putin avrebbe già schierato tra i 75.000 e i 90.000 uomini e altre decine di migliaia potrebbe raggiungersi entro gennaio da un momento all'altro nell'Europa orientale già attraversata da molte tensioni potrebbe scatenarsi una vera e propria guerra Biden nell'incontro dell'altro giorno con Putin ha minacciato sanzioni gravissime sul fronte economico e diplomatico ma i generali della Nato temono che il conflitto tra l'alleanza e Mosca possa diventare addirittura militare Putin ha chiesto a Biden e a Zelensky rassicurazioni sul fatto che Kiev appunto non spingerà per l'ingresso nella Nato con la possibilità che Mosca veda schierate le armi occidentali lungo i 1500 chilometri di frontiera che condivide con l'ex alleato del resto sostiene il presidente russo a Mosca erano state date precise garanzie in tal senso ma Kiev non vuole saperne di impegni presi tra le due superpotenze all'epoca del crollo del muro e le dichiarazioni di Biden sembrano confermare questa posizione non poteva che cominciare dalla Francia l'attività diplomatica del neonato governo tedesco dunque nei prossimi giorni porte aperte all'Eliseo per Olaf Scholz il neocancelliere tedesco che incontrerà appunto Emmanuel Macron il presidente francese che evoca una convergenza di vedute lo ha fatto proprio poco fa questo avviene in un momento per la Germania davvero molto difficile a causa della pandemia continuano ad essere tantissimi i contagi e anche i decessi e proprio questo pomeriggio il Bundestag il Parlamento voterà l'obbligo vaccinale per il personale sanitario una misura che non era pensata ancora in vigore tocca al portavoce del neocancelliere nome di battesimo identico a quello del suo predecessore Stefan Stefan Ebstreit annunciare il primo impegno ufficiale di Olaf Scholz una visita di cortesia a Parigi dove l'aspetta il presidente Macron tappa tradizionale ma in questo caso ancora più necessaria vista la sollecitudine con cui Macron ne aveva salutato la nomina due giorni fa aggiungendo in coda all'addio ad Angela Merkel l'auspicio che il seguito della storia dei rapporti fra Francia e Germania l'avrebbero scritto insieme lui e il neocancelliere appunto tenendo fra l'altro sempre di vista il quadro europeo anche perché la Francia ne assumerà la presidenza a partire da gennaio e proprio a Bruxelles proseguirà il viaggio di Scholz dove ha appuntamento con la presidente della commissione Ursula von der Leyen e il presidente del consiglio europeo Charles Michel mentre solo dopo sarà la volta del segretario generale della NATO Jens Stoltenberg e non si tratta solo di incontri di routine pandemia crisi climatica ucraina sono questioni che vanno affrontate insieme bisogna discuterne fra l'altro a proposito di pandemia Scholz ieri ha annunciato un piano per vaccinare almeno 30 milioni di persone fra prime seconde dosi e booster entro la fine dell'anno anche perché in Germania al momento la percentuale di immunizzati non è altissima 69,1% mentre galoppano i contagi oltre 70 mila al giorno e le vittime 465 l'ultimo dato il che non ha impedito comunque al Bundestag il Parlamento tedesco di approvare l'obbligatorietà del vaccino per il personale sanitario mentre si sta pensando di estenderlo a tutta la popolazione è dunque nel segno della continuità che sembra al momento muoversi il cancelliere che fra l'altro presto potrebbe venire anche in Italia così come annunciato ieri rispondendo agli auguri per il nuovo incarico da parte di Mario Draghi c'era tanta gente questa mattina al Campidoglio per salutare Lina Wertmuller la regista morta nella notte di ieri ha 93 anni a Roma tra i primi a renderle omaggio il sindaco della capitale Gualtieri il ministro dei beni culturali Franceschini la sala della protomoteca resterà aperta fino a questa sera alle 20 i funerali della regista che nel 2020 fu Oscar alla carriera saranno celebrati domani alle 12.30 nella chiesa degli artisti a Piazza del Popolo ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità al ritorno vedremo le notizie sportive ed anche degli eventuali aggiornamenti a tra poco Ripartiamo dal calcio si è chiusa la tre giorni dedicata alle coppe europee con la qualificazione del Napoli e della Lazio che passano come seconde in Europa League e faranno gli spareggi a febbraio chiude invece al primo posto la Roma in Conference League fallisce in Champions l'Atalanta che delude nella sfida decisiva per gli ottavi contro il Villareal è stato bello pensare all'Atalanta ancora una volta sarebbe stata la terza consecutiva promossa agli ottavi un certificato di qualità nell'Europa che conta e invece al sorteggio di lunedì in Champions ci sarà il Villareal la modalità dell'eliminazione lascia perplessi difficile farsene una ragione per Gasperini che per 70 minuti non ha riconosciuto la sua squadra nei concetti di gioco e nei tanti errori individuali a cominciare dalla partenza d'handicap per colpa di De Miral il senso di frustrazione del tecnico aumenta rilaborando quello che poteva essere senza l'ansia alla prestazione è venuto un po' di frenesia poca lucidità e questo ha compromesso una qualificazione che poi ci siamo accorti quando forse ci siamo tolti la pressione di dosso che era una partita che potevamo giocare diversamente insomma potevamo anche era la nostra portata sotto di 3 a 0 con i graffi del chirurgico Daniuma la Dea si libera tardi della pressione a beneficio dell'ingresso di un Malinowski in palla per uno spento pessina e viene qualche dubbio sulla formazione iniziale non basta la grinta di Zapata che segna con il tocco sotto sulla splendida imbucata di Ilicic troppo intermittente la speranza si scioglie sul palo di Muriel restano invece i 13 gol subiti in sei gare e dopo 4 anni si torna all'Europa League con gli spareggi di febbraio adesso subito la testa al Verona domenica in campionato che già stasera alza al Sipario con il derby di Genova dove soffia un vento di burrasca pochi punti in classifica e tante storie da raccontare due allenatori in affanno Cevchenko e D'Aversa che da questo faccia a faccia cercano un po' di serenità Cev in seguito la prima vittoria dopo 4 partite martoriato dalle assenze e da un calendario impietoso con Roma Milano e Juventus ritrova uomini di esperienza come Criscito manca dal 12 settembre a Cagliari paradossale al destino di D'Aversa che oggi non sarebbe più sulla panchina doriana perché Ferrero prima dell'arresto stava trattando il cambio di allenatore la Samp ha perso 3-1 con la Fiorentina e la Lazio l'ambiente è intumuto per le ultime vicende contestato anche l'ex presidente Garrone dal carcere di San Vittore Ferrero attraverso il suo legale incoraggia la squadra forza ragazzi mi fido di voi è scattato oggi l'ultimo fine settimana di Formula 1 con le prove libere del GP di Abu Dhabi che assegnerà il titolo mondiale la lotta sempre tra Max Verstappen e Lewis Hamilton fino all'ultimo giro è il finale più incerto ed equilibrato di sempre perché Lewis Hamilton e Max Verstappen ci arrivano a pari punti in classifica piloti e perché fin qui si sono dati battaglia senza esclusioni di colpi dopo il tamponamento in Arabia Saudita la FIA è stata chiara niente colpi bassi nessuna scorrettezza sarà tollerata in gara ma anche durante le qualifiche pronte retrocessioni in griglia di partenza e penalizzazione di punti in classifica insomma il duello sui 58 giri che assegnerà il titolo dovrà essere pulito e tutte le telecamere dei commissari saranno puntate sulle monoposto di Max Lewis i tempi registrati nelle prime prove libere di questa mattina dicono che il più veloce al momento è per Verstappen l'olandese della Red Bull col tempo di 1.25.009 ha chiuso davanti a tutti precedendo le due Mercedes di Valtteri Bottas e del suo contendente al titolo iridato Lewis Hamilton quarta l'altra Red Bull di Sergio Perez con l'ottimo quinto posto dell'Alfa Tauri di Yuki Tsunoda lontane le due Ferrari ottavo tempo per Leclerc nono per Sainz tredicesimo posto provvisorio per Kimi Raikkonen all'ultimo weekend della carriera davanti al compagno di squadra dell'Alfa Romeo Giovinazzi proprio guardando i tempi delle libere fondamentali saranno le strategie di squadra Hamilton dovrà contare sull'aiuto in pista di Bottas Verstappen di Perez la Mercedes sembra avere qualcosa in più della Red Bull in questo finale ma al momento Verstappen oltre al miglior tempo può contare su una vittoria in più ora concludiamo il nostro telegiornale con la storia di Simone Bile che alle Olimpiadi di Tokyo rinunciò per problemi psicologici a quattro gare a distanza di quattro mesi la rivista americana Time ha deciso di nominarla atleta dell'anno con questa motivazione con gli occhi del mondo puntati addosso fece il passo straordinario di dire basta era sbarcata a Tokyo con l'abito del supereroe in cerca di rotte medaglie nuove cosa si inventerà stavolta quali traiettorie disegnerà era questa la curiosità generale insieme ovviamente all'altra quante medaglie vincerà riuscirà a diventare la star delle Olimpiadi e invece Simone Biles all'appuntamento con il mondo non si presentò alla strada che portava la gloria preferì l'altra più estrema inedita difficile del viaggio dentro se stessa scelse di ritirarsi da quasi tutte le gare pur essendo la favorita per cinque medaglie d'oro la federazione americana provò a coprire l'assenza a giustificarla parlando di motivi fisici di salute lei invece no vuole essere sincera da subito non mi fido più di me stessa disse aggiungendo non provo più gioia sono stanca di avere il mondo sulle spalle pubblicò un video per spiegare cosa veniva nella sua testa i cosiddetti blackout mentali il dissidio mente-corpo che in esercizi al limite dell'umano diventano pericolosissimi fu questa la grandezza di Simone Biles portarci dentro un'avventura umana la sua che ci apparve improvvisamente simile alla nostra piena di forza di saggio sogni e fragilità non più solo una macchina ma una persona per questo imparammo tutti a volerle bene per questo fumò tutti al suo fianco quando decise di tornare in gara dopo giorni di rinunce conquistando un bronzo alla trave che le definì la sua medaglia più preziosa per questo la rivista Time ha deciso di sceglierla come attreta dell'anno di dedicarle la prestigiosa copertina con questa motivazione con gli occhi del mondo puntati su di sé Simone Biles fece il passo straordinario di dire basta da sola non cambierà le disuguaglianze nella salute mentale né costringerà la società a fare di più ma ha reso molto più difficile di stogliere lo sguardo questa la conclusione del Time si conclude così il nostro telegiornale io vi ringrazio ancora per essere stati con noi l'informazione però continua con Tiziana Panella e Tagadà grazie ancora a domani arrivederci grazie a tutti grazie a tutti